Ticket sanitari per le prestazioni intramenia ricomincia la battaglia tra l'Adi Consume e la Regione dell'Umbria. Il nuovo capitolo è la richiesta della Regione dell'Umbria al Consiglio di Stato di decidere celermente sull'annullamento da parte del Tar Umbro della delibera regionale con la quale si reintroduceva la tassa del 20% sulle prestazioni libero-professionali intramenia. Il Consiglio di Stato ha respinto tale richiesta fissando per il 15 ottobre la pronuncia di merito. La Regione ha insistito per una fissazione celere, ha spiegato in una nota l'Adi Consume, che nei fatti era una richiesta di sospensiva degli effetti della suddetta sentenza. Adi Consume Umbria si è opposta a tale richiesta ed ancora una volta ha avuto ragione. Non è certo una vittoria definitiva, prosegue Adi Consume, è solo uno stop alla presunzione di chi vuole affermare a prioristicamente di aver ragione. Quanto al giudizio finale del Consiglio di Stato del prossimo 15 ottobre, a Du Consume si dice fiduciosa la sentenza favorevole o no sarà serenamente accettata. Nel frattempo, visto che si preferisce lo scontro all'incontro, inizieremo a raccogliere le istanze di tutti quei cittadini che volessero richiedere il rimborso di quanto ingiustamente pagato. A partire dal prossimo 7 maggio e poi martedì e giovedì si inizieranno a raccogliere le prenotazioni per la compilazione dei moduli di richiesta. Si partirà da Perugia per poi attrezzare i nostri altri uffici della Regione. Come Adi Consume è nostra intenzione richiedere un incontro con i candidati alla Presidenza della Regione per discutere dei molteplici problemi dei consumatori Umbri, in particolare quelli riferiti al rapporto con i servizi pubblici. Questo della tassa del 20% sarà il primo della lista.